Alan, stai peggiorando. Deve avermi infettato nell'attacco. Ormai è troppo tardi. Ma in fondo è colpa mia. Se si è liberata. Sì, è colpa tua. Ma non ti lascerò morire così. E perché non ti ha aggredito? È parte del suo protocollo di imprinting. Non possono averlo realizzato. Prendi. Contiene campione di tessuto. Trovano. Sistema tutto. Dai su, Eevee. Dove sei. Dove sei. Sì, sì. È vicina. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sei arrabbiata con me, mamma? No, Ivy. Non sono arrabbiata. Aspetta. Come mi hai chiamata? Non voglio più vivere al laboratorio. Voglio una casa. E tu sarai la mia mammina. Va bene, Ivy. Sarò la tua mammina. Ma adesso vieni subito con me. Ok? Dove sei, Ivy? Ivy, aspetta! L'hai trovata? Sì, ma è fuggita. Sta generando altre creature, Alan. Sono ovunque. Proprio come sospettavo. Stai bene? Preoccupati solo di ritrovare Evelyn. Sì. 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 Sì, sì. Sì. Il sistema di isolamento d'emergenza è stato attivato. Sì. 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 Sì, è vero. Ti ho mentito. Non avrei dovuto, ma quello che posso dirti è che se troverai questo, stanne lontano. Dimentica di avermi conosciuta. Sei felice. Adesso staremo insieme per sempre. No! 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 Grazie a tutti.